Ciao a tutti, sono Ketano126 e risponderò alle questions. Raccontaci una storia breve con Brumotti e Escort di lusso. Non lo so, Escort, Brumotti, non vanno d'accordo. Tre album da portare su un'isola deserta. La Noid dei Black Sabbath, Long Live WhatsApp, Fin De Panchine. Quanti soldi puoi fare fondendo il tuo disco d'oro? Zero, perché in realtà non è d'oro di Plexiglass. Meglio ricco o rocco? Un cala vita. La cosa più costosa che hai comprato? Costosa il calimano. Qual è il dono di natura che vorresti avere? Occo. Le tre regole per non essere uno snitch. Chi fa spia non è figlio di Marica, ci ho insegnato da ragazzini. La serata perfetta di Ketama a Trastevere. La serata perfetta che c'è mai stata purtroppo, sempre sognata, ma non c'è mai, non si realizza. Cantami il tuo pezzo preferito di Gianluca Grignani. Lo sai che in realtà mi dicono che ci somiglio sempre, però io sono un po' ignorante, conosco quello più famoso che era Tiraserò, Laiola, quando torni da scuola, quello conosco bene. Fai una dedica a chi ti gioca al Pantamorto. Beh, perderà. Si va a giocare su se stessi e pelirà a tutti.